Oggi voglio parlarvi della mia esperienza con Ricoh, non sto parlando delle fotocopiatrici. Ricoh come tante altre aziende, mi viene in mente Canon, mi vengono in mente anche altri brand, producono una vastità di prodotti differenti in segmenti differenti. Ed anche se non è il loro core business, producono anche alcune macchine fotografiche. Nello specifico hanno due segmenti della sezione Ricoh Imaging, uno dedicato ai prodotti 360, quindi tutto il mondo VR, e un altro piccolo segmento dedicato alle macchine fotografiche, nello specifico alle compatte. Da troppo poco tempo ho conosciuto non tanto il brand Ricoh quanto la serie GR, serie di fotocamere compatte prodotte da Ricoh da una decina di anni. Adesso la Ricoh è arrivata al modello GR3X nello specifico. Ora, ho sempre boicottato questo brand e questa categoria, questa serie di compatte perché le reputavo delle compatte. In realtà mi ricordavano tanto la compatta fotografica a rullino che utilizzava mio padre negli anni 90, quando in famiglia facevamo le fotografie. Non so perché mi ricordava tantissimo quella compatta che era della Yashica, che non mi ha fatto dare la giusta importanza a questo corpo macchina, a questo modello nello specifico. Ed ho scoperto, adentrandomi un pochino nei mesi passati, che al pari della famiglia Fuji e dei fuggisti più accaniti con tutta la serie X100, beh c'è tutta una serie di fotografie che utilizzano quotidianamente la famiglia Ricoh, nello fatta specie, le GR, per scattare street photography e non solo. Ora, da quando ho scoperto questo e mi sono addentrato un pochino andando a cercare fotografie che utilizzassero questi corpi macchina per fare street photography, mi sono reso conto della qualità spaventosa degli scatti che era possibile fare con questa camera. E molti mi dicono che io non sono un vero appassionato di fotografia perché cambio molto spesso corredo. In realtà a me piace tanto provare, la realtà dei fatti che non troverò mai la condizione perfetta. Fatto sta che a me piace realmente provare nuove cose e scoprire filosofie differenti. E un po' come per Fuji, chi ama la serie X100V, la serie X100, la serie X4, beh c'è tutto un pubblico che invece ama questa famiglia, la Ricoh GR. Ora, la prima volta che ne ho sentito parlare era da uno youtuber, che è un fotografo youtuber inglese, si chiama HIV, vi lascio qui sotto il link del suo canale, è un fotografo abbastanza conosciuto, un canale abbastanza conosciuto e popolare nel mondo delle recensioni fotografiche, e lui in più video nel passato ha sempre accostato all'accento F100V nei video passati, all'Erico, perché lui per esempio è uno di quei fotografi che preferisce per la sito fotografi l'Erico piuttosto che la famiglia X100. E io mi domandavo il perché, fino a che, fortuna vuole che mi sono deciso, ho detto quasi quasi la voglio provare, però dovevo trovare la condizione giusta e ideale per poterla provare, perché comunque è un corpo, è una compatta, che comunque ha un costo di ben mille euro. ed è, va, oltre lo sfizio e il gioco la prova, naturalmente, quindi ho atteso il momento giusto per poterla provare. È arrivato poi il momento giusto perché nel mio store di fiducia, Fotoema, ce n'era un modello usato, allora ho chiesto la cortesia di poterla provare. L'ho provata per circa 24 ore, e il mio giudizio è stato molto, ma molto positivo. Tant'è che da allora poi ho deciso di provarla per più tempo, ed è circa più di un mese che provo questa camera e ne sono davvero, davvero soddisfatto. Ma facciamo un attimo un recap. Ora, prendo la scheda tecnica della Ricoh GR3 e vi elenco quelle che per me sono delle feature interessantissime su questo corpo. Allora, prima di entrare nell'ordine della scheda, voglio un attimo approfondire quello che è l'aspetto estetico. Io cerco di farvela vedere, vorrei darvi un metro di giudizio. Questo è un iPhone 12 e questa è la macchina. Non so se si vede perché nero su nero giustamente sono super intelligente. Non è un 12 Max, è un 12. Quindi immaginate quanto è piccola. Questa è la camera più piccola che ho trovato in commercio, e provato tra le altre cose, che posso catalogare in una fascia medio-alta. Più alta che medio, diciamo così. Perché non è una camera per tutti. Non è una camera dedicata all'amatore, ma è una camera dedicata a chi comprende la fotografia e sposa la sua filosofia. Un po' come la X100V. Non è una camera per tutti, ma è una camera dedicata a chi ne apprezza la filosofia e ne capisce la qualità. Ecco, questa è la diretta concorrente della X100V. Diretta concorrente che io non trovavo della X100V. Per me non esisteva una diretta concorrente finché non ho scoperto lei. Ora, vi dico giusto quattro cose in croce, perché per me sono quelle importanti. Abbiamo un sensore da 24 megapixel APS-C, quindi ha la stessa dimensione, ad esempio, di quella della X100V. Ed è molto più grande rispetto a sensori di corpi camera, come la famiglia ZV, le RX di Sony, che comunque sono sensori da un pollice. Il corpo è molto resistente, davvero ben fatto, ben costruito. E una cosa che vi farà, non so se si sentirà, se io la muovo c'è qualcosa che si muove all'interno. Ebbene sì, questa camera ha l'Ibis, quindi è il sistema di stabilizzazione del sensore. E poi ha un'ultima funzione che ho trovato fantastica, è il fatto che non ha un file RAW proprietario, ma ha il file RAW DNG. Ora vi direte, che differenza fa? Beh, sostanzialmente nell'utilizzo quotidiano nessuno, ma nell'utilizzo pratico semplicemente non ha problemi di compatibilità con software, perché è un sistema basato su uno standard e quindi non ha un sistema proprietario. Ed ha tantissime, tantissime informazioni al suo interno. Quindi ritengo, per queste quattro cose in croce che vi ho detto della scheda tecnica, una camera fenomenale. Ora, parliamo di 24 megapixel su un sensore APS-C, quindi quando ragioniamo sulle basse luci, naturalmente è un sensore che va in difficoltà, ma le gestisce abbastanza bene. Quello che abbiamo qui sopra, non abbiamo una lente intercambiabile, ma abbiamo una lente innestata già, fissata da 28 mm. E qui c'è la prima grande differenza con la X100V e con la sua filosofia. La X100V monta una lente equivalente al 35 mm, mentre questa monta un equivalente al 28 mm. Nello specifico questa è una 18.3 mm, equivalente a 28 mm. Quindi questa è una grande differenza tra i due corpi macchina. L'altra grande differenza, come dicevo, è la compattezza del corpo. Se la X100V è molto, ma molto solida, è comunque più grande, pesante ed ingombrante di questa. Anche se di poco ragioniamo, davvero stiamo ragionando sui pochi centimetri e sull'ordine degli 80, 90, forse 100 grammi di differenza, ma la differenza si sente tutta. Si sente completamente tutta. E una cosa, vorrei entrare un pochino più nello specifico, ma non vorrei che fosse un video troppo tecnico. Nel corpo troviamo pochissime funzioni, abbiamo soltanto la lente che si apre e si chiude elettronicamente. Quando si richiude scompare. Abbiamo questo anellino che in realtà ha due funzioni. Questo anellino permette di esporre una piccola contattiera che ci dà accesso a delle informazioni quando montiamo alcuni pochi accessori che sono disponibili. E questo anellino è personalizzabile. Se ne trovano di diversi in commercio, sia di terze parti che della stessa Riko. Non costano poco quelli originali, ma permettono di dare un feel alla camera molto particolare, di poterla personalizzare. Ad esempio uno bello è quello lì tutto arancione. Infatti poi Riko ha fatto una versione dedicata solo alla street dove c'è il corpo macchina un pochino più chiaro e l'anello arancione. Nel questo kit street cambia che ci sono un paio di accessori all'interno, ma sostanzialmente il corpo macchina è lo stesso. Poi sopra abbiamo una slitta dove possiamo attaccare alcuni accessori come un flash esterno prodotto da Riko. Possiamo montare dei viewfinder perché questa camera non ha viewfinder né elettronico né analogico. Poi abbiamo il pulsante di scatto, pulsante di accensione e spegnimento, la ghiera di selezione delle modalità. Abbiamo la prima rotellina qui a portata di indice e il pulsante di scatto. Sul retro troviamo il monitor che non è tiltabile, non si può muovere, è bloccato in questa posizione, anzi lo accendo così, spero che si veda. Non si può fare niente, ma è touch. Abbiamo la possibilità di poter selezionare il punto di messa a fuoco e questa è una cosa fantastica. Poi abbiamo uno slider che ci permette di controllare un valore. Questo è uno slider a scatto, volevo dire, non a controllo. Abbiamo un'altra ghiera di selezione qui sotto che è una rotellina che funge sia da rotella sia da selettore con le quattro freccette con i da pad e abbiamo un altro paio di pulsantini, quello display, quello menu, quello play per mettere in play le nostre fotografie e riguardarle. Sull'altro lato abbiamo lo switch per la modalità video. Sì, io speravo che le caratteristiche per la modalità video fossero migliori, in realtà non è così. Abbiamo comunque la possibilità di poter passare alla modalità video premendo questo pulsantino e possiamo registrare video fino a 1080p a 60 fotogrammi al secondo. Quindi questo è il suo limite. Ma comunque possiamo sfruttare l'Ibis e con quel file non è proprio malaccio. Non abbiamo jack ingressi per le cuffie, in realtà non abbiamo uscite di alcun tipo se non una USB di tipo C che ci permette di poter caricare la macchina e di poter trasferire i file dalla scheda. Questo corpo macchina ha anche una memoria interna di circa 2 giga quindi noi possiamo tranquillamente camminare senza scheda e possiamo scattare e comunque abbiamo una memoria interna di 2 giga. Nel vano batterie sotto invece troviamo la batteria non tanto efficiente, non dura tantissimo, in realtà se utilizziamo la camera sempre accesa non durerà tantissimo e lo slot per la SD. Questa è la camera, non c'è altro. In realtà non c'è altro e basta. Nel senso che sì, ha tante piccole funzioni, ha un menu davvero ben strutturato, tutto tranquillamente anche touchscreen. A differenza di tante concorrenti possiamo utilizzare e sfruttare benissimo il touch. Ma quello che mi ha fatto dare un giudizio molto positivo su questo corpo macchina si basa su alcuni aspetti che sono la compattezza, l'estrema compattezza. Questa è davvero una camera che va in tasca. Non c'è altro da dire. Questa è una di quelle camere che dici ok, voglio una camera da mettere in tasca. La X100V entra in tasca? No, questa entra in tasca. Questa entra nella tasca di jeans. Qualità dell'immagine. Sono rimasto sorpreso davvero tantissimo dalla qualità del file, dalla qualità del sensore, dell'immagine. Non mi aspettavo di trovare tanta qualità in un corpo così piccolo. Poi c'è un'altra cosa che mi ha fatto veramente impazzire, la modalità macro. Ora, vi direte, sì. Quindi, allora, avere un 28 mm che ci permette di andare in modalità di poter scattare macro e per chi fa street, per chi vuole avere una sola camera in tasca tutta la giornata nello zaino, nella borsa, è qualcosa di fantastico. Ok, questo è il punto più vicino di messa a fuoco. Sono circa 10 cm e per un 28 mm è davvero tanta roba. Questo perché io sono un amante, tendo a specificarlo perché sono un amante della fotografia macro, ma non della macro spintissima. Mi piace tantissimo l'obiettivo grandangolare in macro. E questa fa paura per la qualità d'immagine, per la possibilità di avere una camera davvero compatta, con un ottimo grandangolo, con cui poter fare praticamente di tutto, dalla fotografia macro a un ritratto non proprio, però una fotografia di contesto, una fotografia di street, rende questa camera papabilissima a diventare una delle camere per la street photography. No, papabilissima. Una delle camere per dedicate solo e esclusivamente alla street photography. Ho parlato all'inizio di professionisti. Questo perché c'è bisogno di capire la filosofia di questa camera per poterla apprezzare e per poterla utilizzare. Per questo non la dedico, non dico che è adatta agli amatori o a un amatore voluto. Un amatore voluto che comprende che cos'è la street photography, comprende che cosa significa utilizzare un corpo dedicato, con delle funzioni specifiche, ma anche con delle limitazioni, e sfruttare quelle limitazioni a suo vantaggio. Per questo la considero una all day camera da fotografo. Quindi un fotografo, un amante della fotografia vero, si mette questa in tasca, in borsa, e la porta con sé ogni giorno. Un po' come molti fanno con le Fuji, con la X100V, con le X4, ma questa è ancora più compatta e leggera. Come stile? Rispetto a Fuji naturalmente pecca un po' di stile. Qua siamo molto più su uno stile anni 90, proprio pienamente anni 90, e non si è evoluta. Questo modello nello specifico è uscito nel 2019, e quest'anno è uscita la GR3X, che è identica in tutto, se non che porta invece di un 28mm un 35mm, e quindi diventa praticamente la concorrente direttissima della X100V. Non ho avuto modo di provare quella, mi sono concentrato su questa nello specifico, anzi no, la GR3X, scusatemi, non è 35mm, ma è 40mm, quindi va un pochino oltre il 35mm della Fuji. Ho voluto provare più intensamente questa, perché la ritengo un'alternativa, una cosa diversa dalla Fuji, e dal punto di vista che ci dà Fuji. Con questa si fanno cose totalmente differenti. Ho elencato tanti pro di questa camera e della sua filosofia, ma vediamo quelli che sono per me i contro. Allora, trovo per questo corpo un costo davvero troppo elevato. Abbiamo un prezzo di destino di 1000€, se non vado errato, per il modello di GR3. Nella line-up troviamo la GR3, la GR3 Street Edition, che è soltanto un kit dove la camera ha un colore diverso e l'anello colorato, e troviamo la GR3X, che porta invece dei 28mm un equivalente 40. Per questo modello base, il costo di partenza è di 1000€, mentre per gli altri purtroppo non ricordo bene i prezzi, ma sicuramente essendo alcuni un kit e un'altra una versione nuova, i prezzi tenderanno a crescere un pochino. Ecco, questa è una delle cose che a me non piace. Il costo secondo me è un po' troppo elevato, allontana tantissimo il fotografo amatoriale evoluto che vuole avvicinarsi, perché per 1000€ può tranquillamente portare con sé un corpo macchina con cui può fare più cose e non investirebbe i suoi soldi in questa, quando è davvero un vero peccato non riuscire a provarle e a comprenderla, perché una volta che la si prova e la si capisce, ci se ne innamora, perché una filosofia diversa è davvero fantastica. Secondo punto, essendo un'ottica estraibile, noi non abbiamo la possibilità di poter montare un filtro, neanche di poterlo incollare volendo questo filtro, perché questa parte tende a rientrare all'interno. Ma Rico ha creato il suo sistema, e infatti una delle funzioni del togliere l'anellino è quella della possibilità di poter montare un adattatore qui davanti che estende la camera di 7-8 cm con la possibilità davanti di montare dei filtri da 49 mm, 39 mm, non ricordo la misura precisa, il diametro preciso, ma la camera perde la sua compattezza, la sua estrema compattezza. Io volevo mettere dei filtri davanti alla camera per creare cose un pochino più particolari, per giocare di più con la luce, ma mi sono astenuto semplicemente perché utilizzando la camera tutti i giorni, tenendola nello zaino, questa è compatta, con un coso davanti, no, perde la sua compattezza. Quindi questa è un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire, ma c'è la possibilità di poter montare filtri, o anche degli accessori che rendono la camera ancora più grande angolare, cioè una lente che va montata avanti e la rende ancora più grande angolare. Modalità video, ho parlato della modalità video, siamo nel 2021, questa è uscita nel 2019, mi sarei aspettato qualcosina in più. Come detto e aggiungo, questa camera naturalmente nasce per fare fotografia, non so chi la comprerebbe per farci video, ma mi aspettavo che nel 2019 almeno un 4K a 30p me lo faceva fare, senza grandi pretese, ma purtroppo è castrata e arriva fino a 1080p. Va bene così, se bisogna fare una clip al volo ce la facciamo in 1080p, fino a 60 fotogrammi al secondo. E questa è la terza cosa che non mi ha fatto impazzire. Mentre, per chiudere, c'è un'altra che non mi piace, che è l'app. Ho provato, stando per strada, a scaricare le fotografie, sono stato ore e ore a cercare di far funzionare l'app, tant'è che a un certo punto completamente abbandonato, infatti non sono neanche più se ce l'ho sul telefono, ma l'app è fatta estremamente male. Sarò io forse che non ho dedicato abbastanza tempo? Aperta parentesi, penso che un paio d'ore per provare e cercare di connettere la camera all'app siano sufficienti e quindi non penso che sia tanto mia la colpa quanto proprio l'app programmata male o non aggiornata frequentemente. Bene, penso di avervi detto tutto. Ora, giusto per chiudere un po' la solita considerazione che faccio quando vi parlo di una macchina fotografica. A chi la consiglio? Come detto, sin dall'inizio, la consiglio a ogni professionista che vuole una camera da portare con sé tutti i giorni e che riesca ad abbracciare la sua filosofia. Ma la consiglio anche ad un amatore voluto, qualcuno che riesce a capire la percezione della filosofia della Ricco, della famiglia GR e se ne innamori. Perché, un po' come tutte le cose, anche in questo caso, o è amore o è odio. O vi fa impazzire il concetto di avere una monolente 28 mm, piccola e compatta da avere in tasca che fa anche delle ottime macro oppure odiate completamente il concetto di avere una macchina troppo piccola con la batteria che dura troppo poco senza avere lo schermino ribaltabile con un autofocus che non è del più veloce insomma ci sono tanti limiti se tutti questi limiti vi creano un problema beh naturalmente potete puntare su tutt'altro questa è dedicata a chi riesce a comprendere veramente la filosofia minimalista della fotografia street di casa Rico insomma siamo giunti alla fine di questo video spero che abbia dato un'infarinatura sul mondo della Rico e della famiglia GR so che è stato molto sono molto veloci questi video dove bisognerebbe addentrarsi molto di più nel discorso però mi rendo anche conto che parlo troppo e alle volte può diventare petulante e lento quindi io vi ringrazio per la visione se avete delle domande potete scrivermi qui sotto nei commenti vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di virmi a seguire su Instagram perché tutte le ultime fotografie che sto pubblicando le sto facendo con lei proprio perché la sto provando da diverso tempo insomma io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video